Ma noi partiamo dall'inizio oggi, non andiamo a fare una tatenne? No, partiamo dall'inizio, una tatenne diversa. Una tatenne particolare, andiamo. Andiamo. Eh sì, come canta Lavanoni. Con il professor Persegani, Daniele Persegani, che oggi ti fa una tatenne, come? Come ce la fai questa tatenne? Io la tatenne la faccio, la stagione anche delle pere, pere e formaggio. Pere e formaggio, quindi una tatenne salata. Salata, questa volta non con le mele ma con le pere. E infatti io ho già sbucciato delle pere che ho tenuto a metà e poi ho messo invece dello zucchero e burro che si mette sul fondo per fare caramellare un attimo il miele, perché sai, formaggio e miele ha sempre il suo perché, no? Tu hai messo la pentolina, la carta forno. Esatto, la padella con la carta forno, perché in un primo momento devono un attimo brustolirsi sotto appena appena un po' le mele e le pere, scusami, e caramellare con il miele. Cosa facciamo? Poi dopo trasferiamo tutto in una tortiera e mettiamo tutto in forno per 20 minuti. E diventeranno così. Quindi dopo 20 minuti sono così. Esatto. Abbiamo preparato poi una bella besciamella, poco salata, ma con dentro del pepe macinato, quindi con un po' di pepe che vado a versare bollente. Su tutti i formaggi che abbiamo tagliato a pezzi. Pollente qua dentro, esatto. I formaggi li hai scelti a caso, quelli che abbiamo? I formaggi ho messo del Roquefort, appunto perché rimaniamo in terra francese, ma nulla vieta di poter usare anche un nostro gorgonzola piccante, piuttosto che del taleggio, piuttosto che della fontina, del guglier. Quello che avete insomma. Ecco, perché sia un formaggio che fila in questo modo, che si sciolga bene e che abbia un sapore deciso. Quindi la besciamella sopra i formaggi. Sì, così. No, guarda, io poi sono un appassionata di torte salate, nel senso che faccio spesso. Questa è un'idea geniale, perché le pere e il formaggio si abbina perfetto, la besciamella con tutti questi formaggi sopra. Ecco, scegliete però dei formaggi che abbiano carattere. Ecco, un po' di, come dire, di sniaus, perché è tutto molto dolce, no? Mettiamo anche un uovo che fa da elegante, ecco. Ah, questa però, vedi, come hai l'uovo? Prima la besciamella e poi abbassiamo un attimo la temperatura, se non l'uovo straccerebbe, grazie Angela, e poi sciogliamo tutto insieme, perché... Cosa fa l'uovo? Fa da elegante. Se fosse solo besciamella con i formaggi, poi quando la tagliamo c'è il rischio che, insomma, la fetta cada un attimino. Perché deve un po' fare l'effetto proprio torta salata. Brava, esattamente. Quindi come una quiche? Esattamente, come la parade della quiche o la royale, in questo caso, perché è molto ricca. Ma ho una domanda per te, quando la rifarò a casa, perché questa la rifaccio subito. Ma deve avere i grumini o devo fare la propria torta? No, no, guarda, il formaggio, quando si scioglie, esatto, la besciamella non deve avere i grumini, mi raccomando, ma il formaggio... No, besciamella no, però questo impasto può... Non è un problema. Concetto formaggi di personalità, non mettete formaggi che non sanno di niente, sennò poi la torta non saprà di niente. Esatto, sì, deve fare un po' di contrasto. Potete mettere anche del pecorino, del formaggio di fossa, visto che oggi c'è anche la zia Cri qua, vero? Esatto. Qui è bello mescolare, quando c'è la rasagna, anche le cose, cioè nel senso che... È giusto. Il non sapore è sempre... Guardate che cos'è, le pere sotto, il formaggio, la besciamella è sopra. Mi raccomando, caleranno un pochino le pere, quindi è normale che si abbassi un pochino. Poi sopra cosa andiamo a fare? Prendiamo, se avete il tempo di farla, la brisè fatela, però per velocitare... Se uno la può comprare anche pronta. Per noi umani è anche pronta. No, no, dai. E questa è la caratteristica, cioè la tatene, proprio questa, no? Che noi la mettiamo sopra. Allora, piccolo consiglio, quando mettete la brisè, fatela entrare e non tagliatela a filo proprio, perché in cottura tenderà a restringersi un attimino, sennò poi avete la coperta corta e c'è il rischio che... Quindi la arrotoliamo un po' così? La arrotolate un po' così qua attorno. Tanto poi, voglio dire, quello che... C'è comandiamo. Esatto. Ma perché buttare il bordo? Che buonissimo. Esatto. Croccantino. Quindi questa va in forno, la mettete a 100... Senza buchi, è così? Così com'è. Così com'è, 180 gradi per 25-30 minuti, dipende dal vostro forno. Io preferisco sempre la modalità ventilato a casa, perché è più omogenea la cottura, dato che i forni di casa sono generalmente... Io farò un appello. Un giorno, Anto, ci mettiamo e ci facciamo... Li mettiamo tutti davanti gli chef e ci facciamo spiegare. Questo benedetto forno, se deve... Che non è... Io non ho mai capito quando va usato ventilato, quando è stato. Quello bisogna fare una lezione, professore. Allora, no... Adesso, magari con Giovanna, una bella lezione. Sì, l'acqua di Dio. No, perché... Dipende cosa devi fare, giusto, Fulvio? Dipende cosa devi fare. Però ci saranno delle categorie. Eh, sì, però noi abbiamo dei forni professionali che a casa danno un'altra resa, Sosa. Vabbè, no, io voglio quelli di casa. Eh, è ben per quello. Allora, questa è la tatenza. Allora, questa è la tatenza che va rovesciata. Quindi facciamo quest'operazione qua, di scaravoltamento. Allez, voilà. Quindi togliamo il piatto, togliamo anche la carta forno che abbiamo lasciato sotto e il... E questo è il risultato. Oh, mamma mia, questa tatenza ai formaggi che tagliamo... Scusami, Anna, scusami. Voglio vederla perché sono curiosa. Quindi sotto c'è la brisè che farà la base di questa bechamel e quei formaggi e la pere e il formaggio che è questo qua. Cioè, capisci? E io capisco. questa rifatela subito per formaggi e besciamella. La rovesciate e fate... Et voilà. ...uno straordinario antifasso. Fate un figurone. Grazie Angela Frenda. Grazie, professore Persegana. Grazie, Daniele. E adesso...